Terminata l'attesa, stasera alle 20.45, l'ultimo atto della finalissima tra la palla Canestro Roseto e la Libertas Livorno, in un palamaggetti sold out, con oltre 4.400 spettatori sugli spalti. Un'attesa spasmodica a quella che ha vissuto una città intera dopo la sconfitta in gara 4, la caccia al biglietto, le lunghe file al botteghino con i tagliandi volatilizzati in un paio d'ore. E soprattutto un entusiasmo ritrovato per una città che vive per il basket, merito anche di questa squadra e del suo staff, che ha saputo ricreare quel rapporto viscerale tra chi è in campo e chi tifa incessantemente ogni gara. Roseto arriva alla bella col morale alto, nonostante lo stop di domenica. L'arrivo di Matteo Visintin potrebbe essere fondamentale in caso di calo di energie del duo durante Manzaris. Per il resto ci penserà il sergente di ferro, Franco Gramenzi, alla sua ennesima finale conquistata. Dall'altra parte la Libertas Livorno, spinta questa sera, da 350 sostenitori arrivati dalla Toscana, ci proverai come. Squadra aggressiva e tosta, non dovrebbe essere del match. L'ex di turno Jacopo Lucarelli, uscito dolorante in gara 4, ma coach Andreazza può disporre lo stesso di un roster lungo e di qualità. Importante sarà anche l'approccio alla gara. In gara 1 e in gara 3 l'inizio rosetano è stato positivo, meglio Livorno nelle altre due. Capitan Manzaris sarà l'ago della bilancia, anche se Donadoni e Klusnik ultimamente sono stati veri protagonisti, ma fondamentale il calore sugli spalti e l'incitamento soprattutto dei tifosi biancazzurri. Gli ingredienti quindi per una finale piena di emozioni e pathos ci sono tutti, con Roseto che vuole riprendersi a tutti i costi la Serie A2.